Il sacrificio più grande è toccato i possessori degli strumenti di investimento più rischiosi, le azioni e le obbligazioni subordinate. Il nostro impegno su tutti i tavoli territoriale e nazionale è quello di contribuire a trovare soluzioni compatibili con la rigorosissima normativa europea. E' quanto Roberto Nicastro, presidente delle quattro Good Bank, scrive in una lettere ai clienti pubblicata sui quotidiani dei territori di Nuova Banca Marche, Carife, Banca Etruria e Carichieti. Intanto è arrivato il via libera dell'Ecofi nel finanziamento ponte del fondo salvabanche. Il fondo è necessario nel periodo di transizione, cioè fino a che il fondo non raggiungerà la sua piena capacità. Il finanziamento sotto forma di linea di credito degli stati sarà disponibile da gennaio 2016, in modo che il fondo UE salvabanche possa entrare in funzione come previsto. Gli stati che partecipano all'Unione bancaria hanno deciso di mettere in piedi un sistema di finanziamento ponte per assicurare fondi sufficienti al fondo salvabanche durante il periodo di transizione. Dal 2016 ogni stato entrerà in accordo di prestito con il Single Resolution Board, che consente di attivare una linea di credito nazionale e individuale per sostenere il compartimento nazionale del fondo salvabanche in caso di possibili carenze in seguito a casi di risoluzione negli stati in questione, si legge in un comunicato della stessa Ecofin. Con questo accordo prosegue, gli stati assicurano una partenza credibile del fondo salvabanche dal 2016. Le linee di credito potranno mettere insieme una somma complessiva di 55 miliardi di euro, ovvero l'ampiezza finale del fondo salvabanche.